Cari ascoltatori, vi saluto cordialmente nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. In vista del grande evento dell'ascensione di Gesù Cristo, leggo in Luca capitolo 24 versetto 50. Poi li condusse fuori fino a Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Dopo la sua resurrezione, il Signore Gesù si è rivelato ai Suoi discepoli per 40 giorni e ha reso testimonianza di sé come il vivente in mezzo a loro. All'inizio avevano difficoltà a credere che il loro Signore e Maestro, che avevano visto morire sulla croce, fosse davvero risorto. Cosicché lui dovette rimproverarli per la loro incredulità e durezza di cuore. Poi egli aprì le loro menti per comprendere le scritture che predicevano la sua sofferenza e la sua morte. E li chiamò ad essere testimoni della sua risurrezione e a predicare la sua parola. Nei versetti 46-49 leggiamo Così sta scritto E così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. Cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose Ed ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. In Marco capitolo 16 dal versetto 15 leggiamo Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato Ma chi non ha creduto sarà condannato E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto Nel mio nome scacceranno i demoni Parleranno nuove lingue Prenderanno in mano dei serpenti Anche se berranno qualcosa di mortifero Non farà loro alcun male Imporranno le mani agli infermi E questi guariranno I discepoli avevano sperimentato come Gesù Cristo Il loro Signore e Maestro guariva i malati Moltiplicava il pane Ammaestrava il popolo e perdonava i peccatori Ora loro dovevano continuare il suo ministero Anche mentre lo seguivano come i suoi discepoli Egli aveva dato loro l'incarico e l'autorità di scacciare i demoni Guarire i malati e predicare il Vangelo Dopo la sua resurrezione Lui riaffermò il grande mandato E li istruì ad aspettare a Gerusalemme Fino a quando avrebbero ricevuto la potenza dall'alto Per il loro ministero Ogni uomo di Dio chiamato Deve ricevere la stessa potenza Per svolgere il suo ministero nella benedizione Senza la benedizione di Dio Tutto il nostro lavoro e i nostri sforzi sono vani In Marco leggiamo Il Signore Gesù dunque Dopo aver loro parlato Fu assunto nel cielo E sedette alla destra di Dio Luca scrive che lui alzò le sue mani E benedisse i suoi Durante la benedizione Lui si allontanò da loro Gesù Cristo è venuto su questa terra Per trasformare la maledizione in benedizione Quando leggiamo dei grandi uomini della fede Nell'Antico Testamento Ci rendiamo conto che Tutto nella loro vita Dipendeva anche dalla benedizione di Dio Dio promise ad Abramo Di benedirlo E di farlo diventare una benedizione In seguito Egli apparve a Isacco e disse Io sono il Dio di Abramo tuo padre Non temere Perché io sono con te E ti benedirò E moltiplicherò la tua discendenza Per amore del mio servo Abramo Dio vuole benedire La maledizione viene sempre dal diavolo Ma la benedizione viene dal Dio vivente Lui dà promesse di benedizioni E anche le adempie Ogni persona che serve Dio Ha un profondo desiderio Di sperimentare le benedizioni di Dio Ci viene detto di Giacobbe Che acquisì astutamente La primogenitura di suo fratello Esau Perché nell'Antico Testamento La benedizione era sul primogenito Poi leggiamo che Egli lottò con Dio Fino all'alba Quando il sole spuntò Lui esclamò Non ti lascerò andare Prima che tu mi abbia benedetto Anche lui era un benedetto del Signore Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo è chiamato Il primogenito Fra molti fratelli Tutti coloro che Sono nati di nuovo Dallo Spirito di Dio Ad una speranza viva Sono primogeniti con Lui E ricevono in Gesù Cristo La benedizione del Dio vivente Paolo scrive agli Efesini Benedetto sia il Dio e Padre Del nostro Signore Gesù Cristo Che ci ha benedetti Di ogni benedizione spirituale Nei luoghi celesti in Cristo Quando abbiamo dato La nostra vita a Dio E siamo diventati Suoi figli Abbiamo accesso A tutte le benedizioni di Dio Chiunque Dio benedica Lo mantiene benedetto Ne leggiamo un eccellente esempio Nel libro dei numeri capitolo 22 Il popolo di Israele Era in viaggio verso la terra promessa E passò attraverso il territorio dei Moabiti A Balaam fu chiesto dal re dei Moabiti Di pronunciare una maledizione su di loro Ma Dio disse Non devi maledire il popolo Perché è benedetto Quando in seguito Balaam Recitò il suo oracolo Disse Balak mi ha fatto venire da Aram Il re di Moab Mi ha chiamato dalle montagne d'Oriente Vieni Disse Maledici Giacobbe per me Vieni Impreca contro Israele Come farò a maledirlo Se Dio non l'ha maledetto? Come farò a imprecare Se il Signore non ha imprecato? Qualche versetto più avanti sta scritto Dio non è un uomo Da poter mentire Né un figlio d'uomo Da doversi pentire Quando ha detto una cosa Non la farà? O quando ha parlato Non manterrà la parola? Ecco Ho ricevuto l'ordine di benedire Egli ha benedetto Io non posso contraddire Il Signore guidò il popolo di Israele Attraverso il deserto per quarant'anni E lo nutrì in modo soprannaturale Finché rimanevano nelle sue vie Nessuno poteva far loro del male Chi erano i benedetti in ogni tempo? Erano sempre persone che Come Abramo Lasciavano tutto Prendevano la parola della promessa Ed erano pronti ad andare fino in fondo con Dio Seguendo il Signore Hanno sperimentato la potenza di Dio La sua presenza E la sua protezione nella loro vita Anche oggi Dio ha persone sulla terra Che sono benedette da Lui E possono quindi Essere una benedizione per gli altri Negli atti degli apostoli Leggiamo Il modo in cui La presenza di Dio E la sua benedizione Era con la Chiesa E poteva fluire A migliaia di persone chiamate Noi riceviamo sempre la benedizione di Dio A motivo delle sue promesse Nel Sermone sul Monte Leggiamo le beatitudini del Signore Gesù Lui chiama Beati Coloro che hanno fame e sete di giustizia Che sono miti e misericordiosi Che sono perseguitati Per amore della giustizia A cui viene imputato falsamente il male Questi Si rallegrino E gioiscano Perché la loro ricompensa Sarà grande nei cieli Che il Signore Nella sua grazia Faccia di noi Delle persone così Non possiamo Trasformare noi stessi Ma se ci avviciniamo a Lui Egli opererà In esso di noi Attraverso il suo spirito Affinché possiamo essere benedetti Nella verità Egli è andato in cielo Nella benedizione Egli cammina Nella benedizione Tra il suo popolo Come il risorto Lui verrà di nuovo Con grande potenza E gloria Per prendere con sé Tutti i beati Di questa terra Qual è la situazione Di ognuno di noi? Siamo sotto la maledizione O sotto la benedizione? Abbiamo detto sì Alla parola di Dio? Stiamo ricevendo Le sue promesse O ce ne stiamo In disparte? Anche oggi La chiamata È rivolta a tutti Per venire al Signore Egli è pronto A rivelarsi a noi E a benedirci Chiunque noi siamo La sua parola Le sue promesse Sono per noi Personalmente Preghiamo Padre Celeste Ti ringrazio Con tutto il cuore Per la tua preziosa E santa parola Dal principio Tu hai benedetto E continuerai A benedire Per sempre Che tutti coloro Che hanno ascoltato La tua parola Possano ora Riceverla Credere Alle tue promesse E ricevere Le tue benedizioni Lo chiedo Nel nome di Gesù Amen Amen